Ben trovati dalla redazione di News24.City. Colombia cade l'aereo con la squadra di calcio brasiliana Cepecens a bordo 81 persone 6 i superstiti. USA Trump stoppa l'accordo se Cuba non vuole migliorarlo. Il presidente eletto minaccia la revoca del disgelo con l'Havana. Ohio un uomo armato in un campus a Columbus 10 i feriti e l'assalitore ucciso dagli agenti. Cuba addio al comandante Castro ai funerali né Obama né Bidani cubani a Plaza della Revoluzione per firmare un impegno con le idee del leader Maximo. Economia manovra via libera. Della Camera il testo passerà al Senato per la seconda lettura dopo il voto sul referendum. New York la Poel can simula il sequestro arrestato. Voleva 10.000 euro dalla famiglia dopo due giorni tra escort, alcol e droga.